Peccato, peccato, veramente un gran peccato ragazzi, il pareggio appunto Perugia-Lecce finito 1-1. È una partita appunto che ci abbiamo messo sempre il nostro, nonostante che stiamo molto avanti alle aspettative, ma appunto ha maggior ragione, non ci fermiamo qui e appunto cerchiamo di portare in campo il meglio di noi. Fatto sta per la seconda volta consecutiva viene espulso appunto Quan, arriva il gol di Olivieri che comunque segna il vantaggio appunto del Perugia, ma non basta, non basta, oltretutto Olivieri festeggia a gran voce anche contro la sua ex squadra, ma che cosa succede? Che comunque arriva il gol di coda sul rigore, nonostante che Chichizzola comunque sia era molto vicino a pararla. Complessivamente comunque sia il Lecce aveva più tiri totali, è vero, però noi eravamo più cinici, perché con meno appunto tiri stavamo in vantaggio. Fatto sta comunque sia, è andata così, ci siamo beccati questo pareggio, dobbiamo fare bene anche per le prossime volte, appunto il campionato non è finito, dobbiamo assolutamente lavorare, 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 fare il meglio che possiamo perché tanto già stiamo avanti al nostro obiettivo e quindi se ci avviciniamo a obiettivi superiori, tanto meglio.